Per l'agenza e l'ufficio che si vede passare solite carte e fatture Due dicembre, giorno bianco per mia madre in cucina Stai cantando, prepara il pranzo e la cena Due dicembre, giorno nero per la gente che è stanta E che scende nelle strade perché vuole un po' di pane Due dicembre, giorno nero per la gente che è stanta Ma si sa che... ma si sa... Si sa che... Loro vengono coi fucili, loro vengono coi mitra Loro vengono in cento, ma che siano da soli Loro vengono coi fucili, loro vengono coi mitra Loro vengono in cento, ma che siano da soli Due dicembre, giorno bianco per mio padre che è sereno Oramai è assicurato, ogni mese vaga lo Stato Due dicembre, giorno bianco per la gente che è tranquilla E che approva con la testa quello che scrive la stampa Due dicembre, giorno nero per chi cerca una risposta Per chi agisce più non farla e si difende come tuo Due dicembre, giorno nero per chi chiede un aumento E la risposta è solo una, la risposta è di droleggia Due dicembre, giorno nero a finire a civiltà Due dicembre, giorno nero a finirci assassinati Due dicembre, giorno nero a finirci assassinati Non si sa, si sa che loro vengono coi cucini, loro vengono con lì, loro vengono in centro, perché vengono da soli. Loro vengono coi cucini, loro vengono con lì, loro vengono in centro, perché vengono da soli. 1968, cancelliere di Rigni. Chi vuole restare per leggere delle poesie o fare delle riflessioni può restare con noi. Grazie.